Buongiorno Presidente, auguri di buone feste. Presidente, lei si è data un orizzonte temporale di 5 anni di legislatura. Le chiedo se i suoi tempi coincidono con quelli, secondo lei, dei suoi alleati e se per andare avanti bisogna guardare anche indietro, se in sostanza il suo tempo è un tempo lineare o circolare. Grazie. Grazie a lei. Allora, penso che i miei tempi coincidano con quelli dei miei alleati, penso che tutti quanti ci si dia un orizzonte temporale di 5 anni, penso che oggettivamente uno degli elementi di forza dell'Italia in questo momento sia proprio l'impressione di un governo che, differentemente da quanto accaduto nel passato, potrebbe avere una sua stabilità, un orizzonte di medio periodo, che l'interlocutore, anche quando si parla a livello internazionale, potrebbe rimanere lo stesso nei prossimi anni. Questo è un grande elemento di forza e qualcosa che l'Italia ha pagato in passato tantissimo, la sua instabilità politica, per cui la posta in gioco è ovviamente molto alta e credo che tutti quanti nella maggioranza se ne rendano conto. Per quello che riguarda il tempo lineare o circolare, per non tradire il fatto di non aver ben compreso la domanda, io le dirò che il mio tempo è cadenzato. Cioè il mio tempo... Vabbè no, è il famoso gioco da buttato in cacciata. No, sto scherzando, però... Il mio tempo è un tempo, diciamo, che secondo me continua ad avere che continua ad essere giusto se è cadenzato da risposte. Ok, vorrei che si continuasse a vedere in maniera cadenzata e continua che noi stiamo lavorando, che stiamo affrontando anche le grandi questioni spinose che nessuno aveva avuto il coraggio di affrontare assumendoci la responsabilità delle nostre scelte. Che non, diciamo, riposiamo, no? Nel senso, abbiamo fatto una buona cosa, adesso siamo fermi. Abbiamo fatto una buona cosa, domani dobbiamo fare un'altra. Questo è il tempo, diciamo, come io vorrei che fosse. Poi, separata sede, mi spiegherà meglio. Ciao. Grazie. Iliana Sciarra di Necronus.